Microids ha annunciato oggi che lo sviluppo di Flashback 2 è iniziato su PC e console e sarà un platform d'azione con protagonista, ancora una volta, Corrad B. Hart. Pubblicare un sequel di Flashback è un vero onore per Stefan Longard, CEO di Microids. Siamo super entusiasti di offrire ai fan un sequel di questo capolavoro della storia dei videogiochi francesi e di lavorare fianco a fianco di un'icona internazionale come Paul Quisse. Lo stesso Paul Quisse, capo del team di sviluppo, ha aggiunto, sviluppare un sequel di Flashback è un'idea che ho avuto per molto tempo. Microids prevede di rilasciare il Flashback 2 nel 2022. Il team rivelerà presto ulteriori dettagli su questo gioco, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni. Se la notizia ti è piaciuta, lascia un like e un commento.